Una nuvolaglia fitta fitta sarà intanto distesa per il cielo, cominciando da dietro il fiume, dopo le case di Montesacro, lontane e lontane. Quando uno legge un testo d'alta voce ha quella difficoltà di riprodurre quella vocina perfetta che ha nella sua testa quando legge interiormente. Questo va bene, tutti ci fa parte del lavoro dell'attore, sì, immagino di sì, non lo so. È stato bello perché, devo dirti la verità, è una scrittura che sostiene una lettura d'alta voce. Cioè una volta che entri nel suo mondo vedi tutte queste descrizioni di questi personaggi fondamentalmente disperati che cercano di sopravvivere e di arrivare a una luce, a una speranza della propria vita vivendo di espedienti. Tomasino si inginocchiò e smucinò sotto una cassa che con una credenzina che andava a pezzi, il fornello e due seggiole, era tutto quello che c'era nella stanzetta e ci stava appena. Ogni drammaturgia, ogni letteratura e ogni opera d'arte, credo in generale, nasce da una mancanza umana ed è il tentativo di esorcizzare questa mancanza, che poi alla fine non ci si riesce mai perché fondamentalmente la domanda è perché sei nato, è questa bella risposta, nessuno ce l'ha o quantomeno ognuno trova la sua. Credo che la lettura e l'ascolto di grandi romanzi, di grandi testi, possa a ognuno di noi, a chi fruisce, dare determinate vie di accesso per se stessi. erano tutti soli nel locale e si misero a fare i prepotenti. Lello si ordinò le cozze alla marinara, Tommaso le testarelle, il cagone il cappone e una pizza alla capricciosa, il matto la pizza alle quattro stagioni, Ugo i filetti di baccalà e Salvatore i supplì. C'è questa sorta di disfattismo, di decadentismo, se vuoi, prettamente romano, che fa parte un po' anche dello stereotipo che ci ha messo il famoso, quando proietti, fama chito, fa fama, nascia, perde, ecco, tutte queste cose. Alla fine mangio e va bene così. Che può sembrare avvilente, da una parte anche lo è, però è chiaro che nella Roma descritta da Pasolini è difficile poter pensare a una prospettiva di idee differenti per questi personaggi, no? Temo purtroppo che certe persone, forse tante persone, nella Roma di oggi si avvalgano anche di questo concetto e quindi non cerchino di approfondire ciò che sono loro. Lello si infilò un po' qua e là a caso per due o tre vicoletti, poi imboccò Ponte Sisto e lanciò la macchina per Lungotevere. Non c'è nessun artificio qui, nessun tentativo di artificio di dare una esteriorizzazione dell'anima. C'è un tentativo di cercare quell'anima. È che noi, nella nostra scuola italiana di formazione, siamo abituati molto al nozionismo, siamo abituati a mettere l'autore su un piedistallo, no? E questa cosa già ci responsabilizza sul fatto che, oddio, se non mi piace Pasolini non valgo niente, e non potrò mai capirlo, invece no, semplicemente le domande che ti fai tu come essere umano che magari esorcizzi nella tua professione, un autore lo fa con la scrittura. Quindi io penso che sia veramente universale.